Scusate, mi hanno detto che qui c'è un supermercato vicino, che praticamente non so se è questa via... Scusate, 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 perdonatemi. Vabbè, poi se avete un euro, grazie. No, c'è rotato. Eh, niente, volevo trovare un supermercato, ma non lo trovo. Non so dove sia. Posso chiedere se mi fai qualche foto, per favore? Però, qui con il castello dietro, grazie mille. Aspetta. Ok. Vabbè, vai, vai. Sto bene, vero? Sapete, è un supermercato qui intorno, mi hanno detto. Mi hanno detto che praticamente devo andare in questa via qua, però non so se è giusto. Poi, se avete un euro, vado a fare la spesa, grazie. Sì, vabbè, io chiedo dove sono il supermercato. Posso chiedere qualche foto, per favore? Grazie mille. Metto qua dietro, così, dal castello. Sto bene, no? Ok. Grazie. Grazie mille, comunque. Il supermercato qui vicino mi hanno detto di andare in questa via, non so dove, come andare lì. Sì, non so, io mi hanno detto qua dietro. Poi se avete un euro... Se avete un euro vado a fare la spesa. Ragazzi, scusate, mi hanno detto che qui c'è un supermercato, ma non so dove sono. Cioè, mi hanno detto che dovevo andare in questa via lì, però poi io non ho capito se... Vabbè, già se ci avete un euro... No, mi avete visto. Scusi, posso chiedere una foto, per favore? Qualche foto con il castello, non me la può fare? Puoi una foto con il castello? Aspetta. Grazie mille, va bene da qua, io vado un po' indietro. La vuoi? Vai, vai, tranquillo. No, vai, vai. Eh, vabbè. Sto bene, vero? Cioè, è uscito bene? Ma che stica bene? Sapete per caso in che via siamo? Perché mi hanno detto che qui dietro, in questa via, c'è un supermercato. No, non ho idea, questa è via Dante. Ok, ma qui sai indicarmelo? Non so se... Io dovrei andare qua dietro, cioè praticamente, in via magenta... Scusi, scusi. No, aspetta, scusa. Poi se avete un euro, grazie. Vado a fare la spesa. Ok, ci vogliamo un euro. No, scherzo ragazzi, è un esperimento sociale. La telecamera è lì e l'altra è lì. Vabbè, se vuole anche lei. Vabbè, un attimo che vado... Ok, così prende anche il castello. No, no, va bene lì, va bene lì. Così mi prende... Grazie, è ancora qualcuno. Vai, 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 vai. Sono uscito bene? Mi sai, c'è un supermercato in questa via qua. Mi hanno detto che dovevo andare in questa via, però io non so neanche dove sono, praticamente. Perché mi hanno detto, cioè, gira da via Dante, che poi dovrei andare verso di là. Scusate, per messo, scusate. Poi se hai un euro, grazie. Scusate, vi posso chiedere due foto, per favore? Mi metto... Sì, vai, fanne alcune. Poi se hai un euro vado a fare il sviluppo delle foto. Grazie. Sapete indicarmi una strada adesso. Ok, e io da lì, cioè, da qui dovrei andare... Da, scusate, per me. Prego, prego, prego. Ragazzi, vi posso chiedere se mi fate qualche foto dietro con il castello, per favore? Grazie. Guarda, ne puoi scattare un po' da qua, così si prende e io vado più indietro. Fanne alcune. Poi se avete un euro le fate sviluppare. Grazie. Ciao, c'è la telecamera lì.